I sindacati provinciali terramani dei trasporti, Filt CGL, Fit Cisal, Wiltrasporti e Faisa Cisal hanno nuovamente enunciato il clima di crescente tensione che convolge il personale viaggiante sulle linee di trasporto pubblico locale, aggravato dagli episodi di aggressione registrati la scorsa settimana. I rappresentanti dei sindacali descrivono una situazione oramai fuori controllo in cui aggressioni verbali, comportamenti maleducati e provocatori sono diventati una costante, aggravando ulteriormente il già alto livello di stress psicofisico a cui sono sottoposti i conducenti. Come segreterie provinciali del settore degli ferrotranvieri abbiamo lanciato l'ennesimo allarme su un fenomeno che non tende a diminuire. Ultimamente ci sono state due aggressioni qui in provincia di Teramo, ma di tutti i giorni altri tipi di aggressioni tipo verbali o altro e quindi noi denunciamo questa situazione e chiediamo alle istituzioni e alle aziende di intervenire in qualche modo. I sindacati richiamano alle aziende di trasporto una maggiore responsabilità chiedendo interventi urgenti. Gli autobus sono diventati zona franca, nel senso che è lo specchio della società e lì sopra siamo da soli come autisti a fronteggiare queste situazioni. Qualche volta succede anche che se un collega, un autista tenta di difendersi magari passa da vittima a carnefice. Questo non è ammissibile. Quindi chiediamo alle aziende di fare tutto il possibile per far sì che questo diventi un lavoro sicuro e che l'autista non venga lasciato da solo. Quali potrebbero essere le soluzioni secondo lei? La soluzione più immediata sarebbe quella di ripristinare il cosiddetto controllore perché anche un deterrente, anche vedere una seconda persona indivisa sopra un autobus è qualcosa di positivo. Altra soluzione è quella delle telecamere interne ai mezzi in modo da poter dimostrare quello che succede sopra gli autobus perché altrimenti, ripeto, gli autisti sono da soli contro tutti.